Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappala e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi risponderò alla richiesta di un utente che mi ha chiesto su come scaricare i sottotitoli dal video. Per farlo basta andare nel proprio YouTube studio, andare nel video dal quale si vuole scaricare i sottotitoli. Io per esempio prenderò il mio video 5 cose che adoro dell'Erta e ci troveremo in questa schermata. A questo punto dobbiamo spostarci sulla colonna sottotitoli. Andiamo a cliccare i tre puntini vicino all'icona del cestino. A questo punto ci appare l'opzione scarica. Ora scegliamo il formato su come vogliamo scaricare i sottotitoli. Io selezionerò .srt e poi faccio scarica. E i sottotitoli vengono scaricati. Bene ragazzi con questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.